Capitolo 71 Il piano degli heaters Ok ragazzi Si comincia Dimmi Qual è la differenza decisiva Tra Noi angeli e te Goku E Goku dice Io non ho laureola Questo è chiaro Whis lo guarda come se fosse una merda umana Nel frattempo il bastone Da un posto non meglio precisato Rotea Sta arrivando alle spalle di Whis Che lo scansa E Goku Lo prende in faccia Molto bene In testa Sul frontone La schicchera Allora La differenza è che noi siamo Costantemente Nello stato dell'ultra istinto Tu invece Devi Prima Trasformarti Per Raggiungere quello stato Il corpo Non lo fa Automaticamente Non schiva Automaticamente Però Precisa Whis Non esattamente E' che tu Stai Equiparando L'ultra istinto Ha una trasformazione Io sento le vibes Incredibili proprio Di quando Goku e Gohan Si sono allenati Nella stanza dello spirito Del tempo E la prima cosa che dice Goku Dopo aver superato Lo stato del Super Saiyan E' Questo non va bene E dobbiamo Restare Nella forma Super Saiyan Sempre Tutto il tempo Dobbiamo abituarci A quel potere Sento queste vibes Vediamo un po' Quando il tuo cuore È calmo Il corpo Si muota solo E non importa In quale forma Tu sei E questo un po' Ce l'ha dimostrato Anche Muten Durante il torneo Del potere Del manga Tra l'altro Whis Fa vedere Che ha il cazzo grosso Gioca col bastone Ha studiato molto Al Circo Orfei Si vede E' bravo E' bravo E' guarda com'è bravo Si 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 Colpo di tacco Uff Aggiusta il bastone E se lo piazza davanti E' proprio Rubiamo Pagine Toyotaro Senza motivo Questa cosa Ok quindi Stai dicendo Che devo capire Come usare Ultraistinto Nel mio Stato Normale E' bravo Fa la majorette Qui fa la majorette Ehm Farlo Si libererà Dal consumo Di energia Ehm Che è poi Ciò che crea Un tempo limite Allo stare Nel Nella forma Dell'ultraistinto Ho capito E infatti Mi crea un sacco di problemi Sta cosa Bello qua Il braccio di Goku Diventa una Un'ala di pollo Molto bella Ehm Quindi per la trasformazione Completa Diventa un'ultima risorsa Per quando la battaglia supera i tuoi limiti Va bene Ci devo pensare un pochettino E quindi si mette nella posa per Meditare E Tenendo conto di questo Il tempo Potrebbe non essere Dalla nostra parte Perché Whis Sa Whis sa Che Granola E' diventato L'essere più potente Dell'universo E questo riguarda anche te Vegeta E' Vegeta lì Nell'angolo Che sta Anche lui Facendo vedere che ha il cazzo grosso Con un dito Tira su un masso Per farci cosa Non si sa Poi Sparisce il masso Lo lascia vedere Vabbè Che cosa è successo Insomma Ehm Mentre vi allenavate Ok Il vostro allenamento Deve riguardare Voi stessi In pratica Cioè dovete diventare Più forti Dei Dei Voi stessi Del passato E dice Goku Ok Sì vabbè Questo era il piano Diventare Più forti Giorno dopo giorno E Vegeta dice Cioè ci alleniamo Ogni giorno Quindi diventiamo Sempre più forti Cioè questa Che cazzo di Cioè che cosa hai fatto Hai aperto un biscotto Della fortuna E stai Raccontando stronzate Whis Dice Lo dico Lo dico solo in caso Perché non Non tanto tempo fa Ehm E' successo qualcosa Di Brutto In questo universo E Goku dice Ah Veramente qualcosa Che ha a che fare con noi Allora sa per apparire Un nuovo nemico Ah come sono contento Di prendere i cazzotti In faccia Un'altra volta Un nemico Non ne sono sicuro Whis sa tutto E sa anche che Quindi Granola Non è Cattivo Però cosa accadrà Questo è un mistero Allora Pianeta Cereali Granola torna sul suo pianeta Il droide Nell'occhio Gli dice Non vuoi tornare A casa del vecchietto Il vecchietto Sappiamo che E' Nameciano Non possono tornare Fino a quando Freezer Non sarà sconfitto Aspetterò Che Elec Mi dica qualcosa Vabbè ma tu Tutto a posto Come stai Sì sì Tutto bene Sto Sto sereno E nel frattempo Comunque Guarda Con uno sguardo Magari un po' malinconico Verso la casa sua E Il suo mentore Un Nameciano smarrito Che Anche lui un po' soffre Vabbè E posso tenerlo d'occhio Da qui E quindi comunque Veglia Su suo padre Sostanzialmente E' un bravo ragazzo Granola Però E Si incazza subito Allora Elec chiama Oil Maki Prima che Di andare Verso la terra Andate Da Dazzuno Per avere Delle informazioni Ok dobbiamo sapere Dove si trovano i Saiyan Sì Ma E' importante Che scopriate Anche altre cose Vediamo un po' Il piano Di Elec Qual è E E Dice Posso chiedergli Dove si trovano Le Grubbles Più Più buone Dell'universo Vabbè Elec La manda a fare In culo Domandate quello Che volete Però Dovete Comunque Tenervi Al piano Cioè Oltre a Domandare Quello che serve Fate pure il cazzo Che vi pare Comunque partono Con questa astronave Molto bella Questa Sempre carino Devo dire la verità Il lato Spaziale Sta diventando Sempre molto carino Caratteristico Le navi Sono abbastanza Uniche Belle reinterpretazioni Di quelle di Star Wars Effettivamente Questo è un Incrociatore classico Però rifatto morbido Nello stile di Toriyama Sembra Un sottomarino Bello Quando è che Prenderemo I Saiyan Una grande domanda Per Zuno Tutti hanno una debolezza E qualunque Sia Insomma La risposta Abbiamo I finanziamenti Per scoprirla Pagando Zuno E' necessario Era necessario Fare questo accordo Con Granola E dice Ecco Vabbè Lui dovrebbe essere Il più Forte e guerrero Dell'universo No? Quindi In questo caso Si E Gas E' pensieroso Boh Non è convinto Da qualcosa Dice che cosa è successo Avrei voluto Lottare Io Contro di lui E c'è questo rapporto Un po' Un po' Pederastico Tra Elec E Gas Toyotaro Cosa ci vuoi raccontare? Che si avvicina Con fare sospetto Alle spalle Lo tocca Insomma Forse avresti anche vinto Quella Quella battaglia Mi dissocio comunque Il tuo momento per combattere Deve ancora arrivare Ascolta Tu sei l'unico membro Di questa famiglia Che può superare Freezer Ok Quindi è Sicuramente Il più forte E Sappiamo Adesso Freezer Naturalmente E' pari A un Super Saiyan Blue Come potere Quindi inevitabilmente Super sgravo E sono poche Le persone Che possono Aspirare Anche soltanto Di raggiungere Il livello Di un dio Nell'universo 7 Effettivamente Goku Vegeta E Freezer Sono Gli unici Che conosciamo Che possono Arrivare come potere A livello di un dio Goku e Vegeta Sicuramente Possono superare Freezer Grazie A Ulteriori Consumi Di energia O con la fusione Però adesso C'è anche Granola Che Ipoteticamente Dovrebbe essere diventato Più forte Di loro tre Se tutto va Come deve andare La forza spaziale Più forte Di questo universo Saranno Saremo proprio Noi Gli Heaters Quindi Rilassati Prenditela con calma E vediamo Grazie Saita99 Grazie Dell'abbonamento Qualche settimana Dopo Non si sa Quanto Dopo Tiro fuori La cronologia Degli eventi Per cercare Di ricordarmi Effettivamente In che periodo Siamo Ma se non sbaglio Siamo ancora Nel 780 Dovremmo essere Alla fine Dell'age 780 Pianeta Del Sommo Zuno E Gagis Tutta ingazzata Dice Perché ti devo dare Un bacio Non si possono fare Domande Senza dare Un'offerta E l'offerta E sempre Il bacetto Zuno Eh Un po' Dai Ma Elek Si arrabbi Se non Torniamo con le risposte Dagli un bacetto Che ti costa Cioè No Perché non lo baci tu Il sommo Zuno Non accetta baci Dagli energumeni E solo Dalle belle ragazze Va bene Va bene Gli dà il bacetto Contro occhi E lui Perché queste cose Sempre devono succedere Lei Schifo Schifo Finalmente Un po' di risate In questo manga Risate vere Le ragazze come te Sono il mio tipo Adesso Posso rispondere A 10 Delle tue domande 10 Va bene Va bene Si si Ma un pezzo di merda Allora Dammi le note Di Elek Intanto Ehm Guardate qui Che cosa dice Maki Dice Aggiornati Pervertito Hai mai sentito Di Assalti sessuali Cioè Va bene Non è che Non è che ti ha Assalito Non è che ti ha Accredito Però Chiedi un bacetto Sogiotaro vuole stare al passo con i tempi Incredibile Incredibile Ehm Vabbè Bisognerà vedere effettivamente come cambierà La presa di posizione del Giappone Nei confronti Delle donne in generale Sappiamo che non è proprio un paese Progressista Insomma Allora Nel frattempo Goku Si allena con Quis E Evita Il bastone Quis lo fa muovere Con i suoi poteri Goku Schiva Salta Gli sta per arrivare in fronte Tapp Con un ditino Lo ferma Ah Guarda come è disegnato bello Questo Goku Orrendo I capelli sono Sto cercando di capire Qui è in movimento Quindi non lo possiamo dire con certezza Ma Potrebbe essere In uno stato Quasi Quasi Ultraistinto Imperfetto Che Di solito quando si alzano così È quello Però Si sta anche muovendo Perciò non lo posso affermare con certezza Ma siccome sta usando I rudimenti Dell'ultraistinto Almeno così È quello che si erano detti di fare Però vedete Poi dopo Sembrano tornare normali Quindi non lo so Ok Sta arrivando il bastone da dietro Fa Una capriola Incredibile Si appoggia col piede sopra La sfera Del Dello scettro E Whis Soddisfatto Goku E Whis Sono bravi Sono forte Sono forte Wow fra Si è un mostro Va qua va Guarda che sta ci fa Va va Guarda che sta ci fa Un mostro E nel frattempo Goku Fa ok E Vegeta Vegeta invece è diventato Siri il dragone E si allena sotto una cascata L'allenamento Ricoco e Vegeta Continua Sono passate Altre settimane Non si sa quante Perché prima La di Ascali ha detto Qualche settimana dopo Nient'altro Ok Vegeta Fiero Bellissimo Troppo bello Vegeta e le forze della natura Sempre Fantastico Mi ricordo C'era quel video Scemo I miss the rain Down in Africa Con Vegeta Sotto la pioggia Quando sta su quell'altura Mi sembra nella saga Dei cyborg Che è stato così Poi si ingazza E spacca tutto Allora Sta cadendo un tronco Vegeta fa un salto Lo tocca E Boom Hakai baby Ne sta arrivando un altro Hakai Boom Ah come vedete Dalla cascata Ne cadono diversi Boom 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 Cioè Ma Non ho capito Deve migliorare Le proprie capacità O la mira Perché effettivamente Ogni volta che Vegeta La caratteristica sua È sempre stata quella Da quando è stato Inserito Nella storia di Dragon Ball È Quella di Sparare tanti colpi energetici Nessuno lo faceva Soltanto lui Nella saga di Freezer L'abbiamo visto un sacco di volte Però non riusciva mai a colpire Nessuno Effettivamente E Dragon Ball A bridge Questa cosa la sottolineava bene E diceva E gli altri dicevano Ma perché non riesce a colpire nessuno E piccolo Rispondeva Perché mira dov'è Invece di mirare Dove sarà Cioè mira più avanti Tanto si sta muovendo Freezer Mira più avanti Spara Quindi probabilmente Vegeta deve migliorare La mira Non lo so Mi sembra una cacata Come allenamento Comunque Ok Scopriamo che È Beerus Che Lancia i tronchi Nel fiume Per poi farglieli Arrivare in testa Ok Nel frattempo Sempre beve La sprite Disse tante Bevo anch'io Ancora quelle niente Roccia Legno Acqua I magicanti I tre elementi Sì 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 Brava 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 la mia fidanzata I magicanti I tre elementi Com'era E il fuoco brucia Il legno Il legno Ferma l'acqua E l'acqua Spegne il fuoco E questo è il gioco Oh È arrivato un troncone Enorme Ok Come farà Vegeta Che quando scorreggia Distrugge pianeti A Rompere Un troncone Non lo so Non lo so Non me lo Non me lo so spiegare Ma poi arriva Con un vigore Enorme Cioè Com'è possibile Cioè Così pesante Dovrebbe essere Molto più difficile Per il tronco Prima di tutto Passare E muoversi Con la stessa velocità Dei pezzi più piccoli Ma Va bene Non fa niente Sono tronchi Alieni Non rispondono Alle leggi Della fisica Della terra Comunque Vegeta Riesce a distruggere Fa una grandissima Esplosione Così grande Così grande I cui effetti Si vedono Dall'esterno Del pianeta Di Beerus Che ricordiamo È una piramide rovesciata Con al centro Un albero Enorme Dobbiamo chiamare Il Fai Amore Perché stanno Tipo distruggendo Bene Paesaggistico Vabbè Ma tanto è roba sua È roba di Beerus Quindi sono cazzi sui Oh Ha fatto il buco E infatti E infatti Beerus Da un cazzotto intenso Dice strunzo Guardi che è combinato E quindi Cosa ci fa capire questo Beh Vegeta sicuramente Sta affinando Le sue Capacità Con la Kai Ma Non è ancora Bravo Infatti Beerus lo punisce Perché comunque Ha distrutto Tutto E non solo Il tronco Non è ancora pronto Vegeta è ancora uno Struzzo 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 E il tempo passa Hanno chiesto A Zuno Le debolezze Di Goku e Vegeta Che Immagino In questo caso Siano Cose che riguardano Non credo Proprio il potere Ma più che altro Il carattere Perché Goku E' facile farlo Facendo leva Sui sentimenti Vegeta invece Al tempo stesso E' facile Farlo arrabbiare E fargli perdere Di vista L'obiettivo Spero sia una cosa Che riguarda I loro sentimenti E non effettivamente I poteri Vabbè Lo scopriremo Intanto Sono andati Sulla terra Cici Com'è bella E voi Gente Che cazzo Siete Amici Del mio Goku Veramente Non abbiamo mai Incontrato Su marito Ma abbiamo Una richiesta Per lui Non è qui Da mesi Ok potrebbe Richiamarlo Per noi Abbiamo sentito Che Goku Non è uno Che Può ignorare I suoi ordini Se Cici Parla Goku Deve Tornare a casa Infatti Stavo Stavo Sperando Si facesse Rivedere Perché I soldi Che ci ha dato Qua ancora Hercule Lo chiamano Sono 30 anni Che siamo andati Avanti Lo chiamano Ancora Hercule I soldi Che ci ha dato Mr. Satan Sono finiti Quindi Deve Trovarsi un lavoro Avete problemi Economici E noi abbiamo Un lavoro Perfetto Per suo marito Qua parte il trappolone Parte il trappolone Nel frattempo Sul pianeta Di Pirus Goku imposa Telefonatina Da parte di Bulma Goku e Vegeta Sono lì Abbiamo Degli ospiti Che chiedono di loro Tra l'altro Bulma Sia Bulma Che Cici Hanno Dei vestiti Che ricordano Periodi Precedenti Di Dragon Ball Fra l'altro Periodi Diciamo giovani Sembrano ringiovanite Tutte e due Comunque Qua Siamo molto più vicini Alla fine di Z Che non Quando è iniziato Dragon Ball Super E Sono ringiovanite Anche loro Non solo i Saiyan Allora Ospiti Chi cazzo sono questi Vabbè Sono degli alieni Sembra Ci siano Di cattivi Che vogliono Farvi Sconfiggere E Goku Fa un cattivo Veramente Già me lo vedo Li fanno combattere Contro Granola No Non ci credo Capsule Corp Ok Loro sono tornati Sulla terra Ascolta Goku E Guarda che ti pagano Ti pagano Per questa cosa Ma Un momento Scusate Ma che bisogno C'era Di introdurre Che stanno Alla capsule Colpo In questa Di Tascalia Pensavo fossero Già arrivati Sulla terra Toyotaro Completamente Folle Vabbè Allenarsi Non ci mette Un tetto Sopra la testa Non ci riempie La pancia Di pane Davvero Davvero Ci sei anche tu Cici No no Allora torna Subito a casa Paura Paura Raccontateci di più Su questo nemico Mi hanno detto Che è apparso Così dal nulla Ed è il più forte Dell'universo Difficile da credere Che sia così Ma Uno insomma Voi due dovete controllare Sta cosa Il più forte dell'universo Goku impazzito Veramente Pensi che sia quello Di cui parlava Il pesce oracolo E Whis dice Potrebbe essere così Allora Devo farli andare via E Mikey fa No 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 Veggie dice No 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 Io voglio combattere Nessuno Può Assumere il titolo Del più forte dell'universo Senza che io Dica la mia E non ho bisogno Che venga anche tu Kakarot di merda Qua avrei potuto mettere Kakarot No no Non esiste Voglio venire pure lì Forte dell'universo Già sono Già sono gasato Solo all'idea Infatti la mia fidanzata Aveva previsto Già sta cosa Capite che vogliono fare Vogliono mettere Granola Cioè Go contro Granola Mostrando una sorta Di cattivo Sì 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 Allora Ci vorrà mezz'ora Prima che loro arrivino Volete aspettare Insomma Questo salverà la vita Di tante persone Innocenti Sono così Sollevata Avete Una stanza dove possiamo Riposare Sì 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 Andate là eccetera Vanno in questa stanza Ah bravo bravo Maki Sarà la grande Sono l'unica attrice In questa famiglia Dai dai Anche tu ti sei dato da fare Insomma Non ha detto niente Comunque La prossima mossa è E aspettiamo Corsa espresso per la terra Vero? Sì per favore Evviva È da tanto tempo Che non faccio Una vera battaglia Pirus sta sempre Per la pescare Dopotutto Questo allenamento Dopotutto Questo allenamento Non c'è verso Che io possa perdere Con qualcuno Gli farò vedere I frutti Di questi giorni spesi E poi Virus Tutti incazzati Vegeta E cavi No Questa è la lore Attenzione alla lore Prendi questo Mettitelo Sull'orecchio Questo è il simbolo Di chi può usare L'akai La distruzione Sto pensando Se anche Gli altri dei della distruzione In Dragon Ball Super Hanno questi orecchini È una retcon Questa Li hanno? Antmar mi dice Che li hanno Io non me lo ricordo Perché non vedendoli sempre Non vedendo sempre Gli altri dei della distruzione Non Non ce li ho Presenti Vabbè Ce l'hai presente Enrico esente Ora Fuori dai coglioni Via E Dammi prova Che La distruzione Degli Hakaishin È più forte Delle tecniche degli angeli C'è questa rivalità Che si è creata Tra Cioè che poi Se l'è creata da solo Tra Virus e Whis Se l'è autocreata Eh Whis subito Va bene Allora ti rimetto Questo simbolo Ah Proprio dalla saga Della Resurrezione D.F Ve la ricordate Virus si ingazza Dice Strunz Strunz No Vigita assurda Vabbè Non ti preoccupare Lord Virus Non ho intenzione Di perdere Contro Kakarot Ma siamo impazziti Cioè Cioè che cosa è diventato Drago Sono diventati L'estensione Dei loro maestri Cioè proprio Siamo tornati Scuola della Gru Contro scuola della Tartaruga Proprio vecchio 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 Rivalità E' ciò che vi ha reso Forti In generale Ma Ricordatevi Di non essere Troppo sicuri di voi stessi Perché Magari Potrebbe essere La vostra rovina Dice Questo tizio è così forte E' così cattivo Diciamo Non posso parlare Di cattivo Non posso parlare Di cattiveria Perché E' appena apparso Si tiene molto Super partes Whis Da questo punto di vista Infatti dice Io non posso intervenire Negli affari Dei mortali Ma Insomma Vi do questo Avviso Ora Vogliamo partire E partono Virus Ah Finalmente Pace E quiete Ora vi posso fare Un bel riposino Il pesce oragolo Che galleggiava lì Ah sono andati via Vabbè Non che mi interessi E' un po' di interesse Loro rovistano Hanno trovato il dragon radar Nel frattempo Eccolo qua Il dragon radar Fra l'altro Maki ha La mano Delle tartarughe ninja Praticamente Perché Tipo C'ha Anulare E mignolo Lontanissimi Da indice Medio Come fa a tenerlo Così Non lo so E' stranissimo Va bene Comunque Le informazioni di Zuno Erano tutte corrette Però non appare niente Strano Dice forse E' come ha detto Zuno Cioè le sfere del drago Della terra Diventano Semplici sassi Per Per un anno Dopo essere state utilizzate Deve essere Successo così Però c'è anche detto Che Le sfere del pianeta Cereali Non Tornano Sassi Non diventano Sassi Immagino Che quindi Questa sia una condizione Cioè Il fatto di aver Due sfere Che non è un Malus Cioè queste sfere Le sfere Di Monaito Il nome Ciano Che si trova Sul pianeta Cereali Hanno solo Bonus Cioè sono due E quindi è più facile Trovarle Se sono Meno di sette Gli ha fatto esprimere Un desiderio Assurdo A costo Di un grande prezzo Da pagare Ma questo non sappiamo Se è tipo La mano di scimmia Credo che sia stato Semplicemente dovuto Al fatto che Granola Vuoi diventare fortissimo Devi pagare un prezzo Perché così Non può accadere E lui ha dato In cambio Gli anni di vita Che gli restavano Da vivere Ma sono due Quindi sono più facili Da trovare E non diventano mai Roccia Cioè Cioè proprio Ha rotto Le sfere del drago Ha rotto anche Le mie sfere del drago Comunque Cici Li sgama E voi due Ma che state facendo Dice Ma quanto pagate Quanto pagate Perché qua Eh 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 I soldi I soldi che date voi Dallo spazio E roba che non serve Qua sulla terra Quindi Accettate Il pagamento In sky gold Allora Dovrebbe avere Un certo volo Sul vostro pianeta Gold Molto Molto Bene Lo sky gold È Un È oro Sostanzialmente È stato introdotto Nel mondo di dragon ball Con la storia Di giaco C'erano dei Dei pezzi Che andavano riparati Nella navicella di giaco E andavano riparati Con lo sky gold Infatti loro all'inizio Di quell'avventura Devono guadagnare Un sacco di soldi Per Aggiustarla Ma poi alla fine Non serviva nemmeno Arriva Bulma Che è un genio E capisce qual è Il vero problema E risolve tutto Bulma Da bambina Chiaramente Perché È una storia Nel passato Sì esatto Da brava madre Di famiglia Deve far quadrare Tutti i conti È vero Mi aspetto Che la mia fidanzata Faccia lo stesso In futuro Quando ci sposeremo Ce lo so Io come Goku Devo fare così Devo lavorare Devo andare ad ammazzare I cattivi nello spazio Devo andare ad ammazzare Quelli che Leggono le scan Nello spazio E mi tolgono la piazza Allora In questo caso Siamo preparati A pagare Il tuo peso In Sky Gold Ok Molto bene Allora È tempo che mi faccio Ghiatto Vado a ingrassare Bellissimo Cici Tutta contenta Ah Pagate tanto oro Quanto peso Molto bene Andiamo a mangiare 30 minuti dopo Whis Whis Le ha portate Sulla terra Lui se ne dona Sul suo pianeta Sono qui Molto bene Ah Voi dovete essere Goku e Vegeta Sì avete problemi Con qualche tizio cattivo Speriamo che voi Possiate eliminare Questo problema Ma dov'è Dov'è questo tizio Che dice di essere Il più forte Dell'universo Su un pianeta Abbastanza lontano Ma ci potete arrivare Con la nostra navicella Ok A posto Mi raccomando Goku Le cose Sembrano dure Se vedi A guai Torna Ok Dice Ah Non ti preoccupare Cici Non è Non è come Accade di solito Che la terra è in pericolo Ecc Ma cosa c'entra Anche tu Fai attenzione Vegeta Vegeta Guarda Bulma Lo so Questo qua Lo so Questi fatti Proprio Alla Star Wars Totale Lei ha Han Solo Ti amo Lo so Allora Andiamo Quel cattivone Di granola Ci aspetta Sul pianeta Cereali Eh lo sapevo Lo sapevamo Era questo Ok qui insomma All'interno Della navicella Ci sta Un'area Dove potete riposarmi Wow Bellissimo La piscina Dentro la navicella Spaziale Fantastico Quanto ci vuole Per raggiungere Questo pianeta Ci vorranno 18 giorni 18 giorni Eh lontano Come state messi A mangiare Il nostro Chef gourmet Il nostro Chef gourmet Remy Remy Di Ratatouille Vi preparerà Tutto quello Che volete Ah bene 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 Pensavo Pensavo Saremmo stati Bloccati Qui Con Il cibo Senza Sapore Dello Spazio Ok Questa è Un'informazione Secondo me Anche più interessante Di tutte le altre Cacate Che vengono dette Quindi Il cibo Spaziale Non è così Saporito Rispetto a quello Della terra In generale Vabbè Comunque Se volete qualcosa Non esitate Non esitate a chiedere Questa è certamente Una nave Molto lussuriosa Per essere una tribù Di gente Che è stata attaccata Da un tizio Fortissimo Vegeta subito Si fa mille domande Dice Qualcosa non torna Ah eh Questo perché voi siete I nostri salvatori Abbiamo preparato Una nave spaziale Speciale Solo per voi E Vegeta subito Vabbè Vi ringrazio Posso continuare Ad allenarmi qui Goku subito E allora Quando si mangia C'ho fame C'ho fame C'ho fame Ah benissimo Bello Anche se vedo pochi piatti Avrei voluto Vederni Ancora di più Proprio per ridere Ancora più comico Comunque Goku Mangia Infatti subito Ancora 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 Vigile Si allena sott'acqua Impazzito Vorrei capire Però Cioè Perdonatemi Per noi persone Normali Bere Chiaramente Allenarsi sott'acqua Ha una certa difficoltà Perché ti muovi In un fluido Che fa resistenza Ma Vegeta Che di nuovo Ripeto Se si scaccola E tira la caccola Distrugge un pianeta Ma Cosa serve Sta cosa Sono cose Fiche da vedere Ma non Cioè Non hanno proprio senso Comunque Vediamo Maki Che Con Fabular Alla radio Sicuramente Con Elec Ah no Qua sta chiamando Sta chiamando Granola Ok Perfetto Quindi Pianeta Cereale Chiama Granola Sono Maki Scusami se ti ho fatto aspettare Ok Che cosa Hai da dirmi Avete trovato Il luogo Il luogo dove si trova Freezer Sì sì L'abbiamo trovato E No Praticamente Sì sì L'abbiamo trovato Però Praticamente Su questa navicella Ci stanno Due assassini Di Freezer E Stanno Cioè Arrivando Sul pianeta Cereali Quindi sono Membri Dell'esercito Di Freezer Che stanno venendo Per me Eh sì sì Pensiamo di sì Ci dispiace No no Vabbè Questo gioca a mio favore Perché è l'occasione Di Vendicarmi E Sapere Direttamente Dall'esercito Di Freezer Dove si trova Freezer Incredibile Incredibile ragazzi Incredibile Ah ancora una cosa Questi due cattivoni Sono Sembrano Apparentemente Membri Della Razza Estinta Dei Saiyan Granola Su GASSA Eh sì Ne erano sopravvissuti Qualcuno Quindi ci sono ancora Dei Saiyan vivi Sì Coloro Che hanno portato I Cerealiani All'estinzione È solo questo Volevo sapere Solo questo Volevo sapere Vabbè Questo è quello Che hanno detto In ogni caso Amico Ci sentiamo Tutto come programmato Sì 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 Esattamente come pensavamo Granola Fico Esce fuori Dalla sua navicella Al vento Così Bello Con i capelli Fluffosi E guarda La vecchia Città Natale Completamente Distrutta Dice I Saiyan Stanno Tornando su questo Pianeta Ancora una volta Sono 50 anni Ma dopo 50 anni Potrò Avere Finalmente La mia Vendetta E così Si chiude Il capitolo Ragazzi Lui In questa scena Sembra Bevy Vegeta Tra l'altro Vabbè Ma Cerialiani E Tsufuru Naturalmente Condividono Qualcosa A livello Di idee Di costruzione Di idee In questa storia Prossimo capitolo Il 20 maggio Il 20 maggio Sarà un giovedì Ragazzi Mamma mia Che roba Che roba Si oddio Per gli standard Di super È un capitolo Carino Nulla Nulla da ridire Sicuramente Ci sono Delle premesse Migliori Della saga Di moro Che Era cominciata Interessante Ma poi È diventata Una noia Secondo me Ricordiamo Che Vegeta Si allinava Con gravità 400 Adesso Nell'acqua Vabbè Ma Come ha detto La mia fidanzata Deve fare Di necessità Virtù Non ce l'ha Lì La sala Gravitazionale Allora In generale Del capitolo Penso che Oltre Quelle solite Vignette Brutte Di combattimento In questo caso Di azione In generale Un capitolo Super verboso Dove deve Spiegare un po' Di cose È bella La rivalità Tra i due Maestri E i due Allievi Chiaramente Ripeto Proprio Non fantastico Il modo in cui Disegna Le scene D'azione Come sempre Che sembrano Dei momenti A sé Cioè Non sembra Mai una cosa Coerente Ma anche qui Non la vedo Mai come una cosa Molto coerente Sempre Vignetta 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 Però in generale Cioè Ci sono Delle cose Interessanti Tipo Qual è il rapporto Vero Di forza Dei personaggi No? Cioè Gas È davvero così forte Sono curioso Di scoprirlo E Tutte Le altre domande Che hanno fatto Azzuno Quali sono? Cioè Noi abbiamo visto Che loro hanno scoperto Delle sfere del drago Le sfere del drago Della terra Del pianeta Cereali Dove si trovavano Goku E Vegeta Però Queste sono Tre risposte Tenendo anche conto Del cibo Preferito Di Maki Che voleva sapere Dove si trovava Ci sono sei risposte Che ancora Non sappiamo Sarà interessante Scoprirlo Freezer Che ruolo giocherà In tutto questo? Io credo Che inevitabilmente Loro Loro due Dovranno allearsi Con Freezer Whis Già Ha anticipato Questa cosa Ha detto Essere troppo Fiduciosi In voi stessi Vi metterà All'angolo Ed è quello Che accadrà Sicuramente E Una volta sconfitti È molto probabile Che Freezer Li aiuterà Perché deve essere Una specie di Capiamo Meglio Chi sono questi personaggi Da dove vengono Cosa sono diventati Soprattutto Se sono migliorati Vegeta inevitabilmente È migliorato Cioè Da vero assassino È comunque diventato Una persona Buona Un eroe Senza dubbio Però mi sembra Il La classica Dinamica Di Eroi Come personaggi Buoni Che lottano Tra loro Perché Non si sono Compresi a fondo E quindi Dovrà esserci Un momento Dove Si ristabilisce Un equilibrio Poi Insomma Io voglio vedere Granola Quando scoprirà Di essere stato preso Per il naso Da Gli heater E vedere poi Lo scontro Con gas Effettivamente Se questo avverrà Ha creato Un po' di domande Sì Un po' di lore Qua l'orecchino Sono curioso Sì È un capitolo Bello Meglio del solito Direi Meglio del solito Capitolo che Secondo me Si piglia Come voto Un set Tranquillamente Secondo me Secondo me Granola Non sarà Il vero nemico Della saga Bisogna vedere Comunque Voglio cercare Quella cosa Degli dei Della distruzione Perché Sta cosa Che hanno L'orecchino A me Non mi sconfì Infera proprio Ciampa Ce l'ha Però qua Sono tutti Da un lato Mannaggia Eles Non si vede Lui Non me lo ricordo Non mi ricordo Nemmeno Cioè In realtà È un robot Dentro c'è Il vero dio Ma non mi ricordo Chitela Non ce l'ha Questo Boh Non lo so Qua non si vede bene Ciampa ce l'ha Ma Ciampa ce l'ha Soltanto perché È il doppio Di Di Beerus Cioè È proprio Evidente Che all'inizio Della storia Tutta sta cazzata Degli altri Universi Boh puttanate Perché dovevano Essere Universi Gemelli E Al contrario Qui Poi invece Dragon Ball Super È diventato Tutta un'altra cosa Si vede proprio Che è cambiato In corso d'opera Lui Vedo una cosa Qua Ma Non lo so Quest'altro Non si capisce Rum C'è l'ha Credo ce l'abbiano Tutti A questo punto Però per esempio Ecco qui Il clown Non ce l'ha Cioè Dipende Non ce l'hanno tutti Credo sia Una questione Di Di design Lui Non ce l'ha Credo sia Una questione Di design Redcon Totale Eh Ma me l'aspettavo Fosse una redcon Perché Io non mi ricordavo Una cosa del genere Solo alcuni Ce l'hanno E vabbè Ma i bracciali Cosa c'entra Cioè pure Non credo Sia una cosa Che riguarda i bracciali O meno Anche Beerus Ha i bracciali Che vuol dire E qui E viene detto proprio Io ti do l'orecchino E l'orecchino È il simbolo Degli Hakaishin O meglio Di quelli che possono usare La tecnica Hakai Tecnica Fra l'altro Abbiamo già visto Usata da Goku Vabbè Ma Ha retconato molto In questi Ultimi Tre capitoli Toppo Per esempio Che usa La Kai Non ha gli orecchini Perché Eppure Eppure Insomma Gliela fanno usare Quella tecnica Non solo è Legittimata Utilizzata Ma Mica c'ha gli orecchini Quindi Cioè Bu È una cosa inventata Caverna Quanto manca Alla fine di Z Bravo Mi hai ricordato Sta cosa Ehm Mottedigo Aspetta Mottedigo Perché Ho scritto Una Tabella Abbastanza precisa Una tabella Abbastanza precisa Degli eventi Allora Questa è una Timeline Che ho scritto Io Basandomi su Quello che viene Raccontato Nel manga E nell'anime Cercando di far Tornare Tutto Con quelle poche Date ufficiali Che ci sono E Tenendo conto Di quando Dicono È passato qualche mese È passata qualche settimana Eccetera Diciamo Gli ultimi eventi Partendo Dallo scontro Contro Broly Che Secondo i miei calcoli Ha luogo Tra luglio O agosto Inoltrato Dell'Age 780 Non sa E non ha sconosciuto Broly Attacca la terra Insieme a Freezer Qualche giorno dopo Goku e Vegeta Asinuiscono la battuglia galattica Age 780 Settembre O ottobre O ottobre Inoltrato Dopo una settimana Circa di battaglie E due mesi Di allenamento Comincia lo scontro finale Tra Goku E Moro Che poi sappiamo Insomma Subito dopo Infatti ho scritto Age 780 Ottobre inoltrato Inizi di novembre Goku e Vegeta Si allenano di nuovo E Granola diventa Il più forte guerrero Dell'universo A questo punto Dice che ci sono voluti 18 giorni Per arrivare Su quel pianeta Quindi un po' di settimane Immagino sia sempre Lo stesso Sia sempre Tre O quattro settimane Molto probabilmente Ci troviamo O all'inizio Di gennaio O all'inizio Di febbraio Del legge 781 Perché ci sono voluti 18 giorni Per arrivare Sul pianeta Dei cereali Gennaio O Gennaio Inoltrato Febbraio Inoltrato Dopo svariati Oh Che ho scritto qua Dopo Svariati Allenamenti E Viaggi Goku e Vegeta Incontrano Granola E quindi Mancano Tre anni Circa A End of Z All'age 784 Quando C'è il torneo Tenkaichi E Goku Incontra Ub Tosta Tosta Tostarella E' roba E' roba da matti Quelli se ne fottono Per far Stornare Storno E' roba Si inventeranno Che gli anni Durano 700 giorni Non penso Non penso proprio Ma come sai Che finisce Con Ub Paz Il manga Di Dragon Ball Così finisce Nè che me lo sono inventato Io Quanto meno Devono arrivare Lì Che poi dopo Vogliono raccontare Altre cose Vabbè Se invece Virus Avesse mentito E vedete in realtà Sta solo Facendo diventare Dio della distruzione Lo sta solo Facendo diventare Non lo so E gli ha dato Quell'orecchino Per autorizzarlo A usare la Kai Parole di Virus Ora Cioè Non abbiamo idea Io non ho pensato Effettivamente Che fosse Un piano Di Virus Per avere un sostituto O meglio Un capo espiatorio Delle cose Che verranno fatte Non penso Credo sia Proprio Effettivamente Una retcon Per dire Mettiti l'orecchino E così Se è autorizzato A usare Questi poteri E poi ci sono io Che ho appena iniziato Il manga Ah beh Da apposta Ma quando Cresceranno Trunks e Goden Spero presto Secondo me Tipo Effettivamente Non li vediamo Da un po' Se non è in questa Se fanno Un'altra saga Li dovrà far vedere Un po' Cresciuti Altrimenti Non li fa vedere Più Fino alla fine Di Z E Li fa vedere Già grandi Cioè Io penso Lo stiano facendo Per evitare Di creare Un altro design Per Goden e Trunks Li hanno lasciati Bambini Per tutto il tempo E poi In End of Z Alla fine Alla fine del manga Li vediamo Che sono già Grandi Però li tornerà Non lo so Spero di sì Ma non credo E Goku Quando combatte Con Ub Si limita A non usare L'ultraestinto Completo Dovranno Ritconnare Tutto Chiaramente Dovranno dire Che Si tratteneva Cose del genere Vabbè Ciao